Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Black Orchestra, un gioco della Starling Games. Qui davanti vedete l'edizione italiana, tra l'altro uscita da poco, a cura di Asmode Italia, che io ringrazio di cuore per avermi offerto una copia per la recensione. Grazie ragazzi, veramente, è sempre un grandissimo piacere collaborare con voi. Come riporta la scatola, è un gioco da 1 a 5 giocatori, della durata media di 90 minuti, età dai 14 anni in su. Anche qui ho l'età all'abbasserei di un anno, due, per la semplicità delle regole, però forse sì, per il tema trattato, visto che comunque l'attentata Hitler, e comunque si va a parlare di nazismo, del nero e maledetto stivale dei nazisti sull'Europa al tempo d'inizio della Seconda Guerra Mondiale, non è proprio un argomento ecco da giovanissimi. Infatti, si parte, come dice, con Rivalando 1936, quando ovviamente Hitler e Reich stavano salendo al potere in Germania, e sotto di loro però si era formata una schiera di dissidenti, partendo da civili, fino ad arrivare anche alle più alte cariche, appunto, del Reich. Prendo l'esempio, se l'avete visto, Operazione Valkyria, perché questo veramente è il gioco di Operazione Valkyria, il colonnello von Stauffenberg, che era un colonnello della Wehrmacht. Quindi comunque avevano anche generali che volevano togliere di mezzo Hitler, che a livello storico, da una parte si dice che volessero un breve sceno storico, poi si inizia ovviamente e vi spiego tutto quanto, come funziona il gioco. Da una parte si dice che volessero chiedere la resa alle truppe alleate, mentre invece da una parte sembra che anche i dissidenti, coloro che vogliono fare l'attentato a Hitler, tra l'altro capitanati, uno dei più importanti era von Stauffenberg, quello con la benda sull'occhio, sembra che volessero portare comunque avanti la campagna, la guerra, ma volessero togliere di mezzo un leader, in quel caso lì Hitler, che invece era un leader completamente sbagliato, ovviamente ci mancherebbe anche altri, che stava portando la Santa Germania, o per meglio dire la Sacra Germania, come era nominata da loro, verso lo Sfacel e verso la distruzione. E in questo gioco voi sarete appunto quei cospiratori, tra molte virgolette, io li chiamo eroi nazionali, ovviamente perché per togliere uno schifo, un aborto di mezzo come lui non erano cospiratori, ma anzi Hitler era il cospiratore contro la Germania, voi giocherete quel gruppo di dissidenti e cospiratori che faranno il possibile per togliere di mezzo Hitler, tra, anzi, senza nemmeno virgolette, per farlo fuori, quindi proprio per ammazzarlo. E è un gioco, ve l'ho detto, abbastanza... Cioè, il contenuto non è pesante, però comunque per il tema che si va a trattare sicuramente non è per i più giovani, mettiamola così. Unboxing, la confezione del gioco, tra l'altro bellissimo il disegno e la colorazione, che poi sono la colorazione delle carte che sono all'interno del gioco, che di solito le carte con una colorazione blu o nera sono carte normali comuni, quelle che hanno una colorazione rossa invece sono carte illegali, che vi danno molti più punti, sono molto più potenti rispetto alle altre carte, però sono anche più rischiose. E vedete qui davanti, un po' come a far vedere la magnificenza del Reich, la potenza del Reich con questo schifo di Hitler qua su in cima, e poi qua giù sotto vedete, praticamente siete voi i dissidenti e i cospiratori, che scappano rincorsi dagli agenti della Gestapo. Anche bella la colorazione è tutta, mi garba veramente molto, e vi dico la verità, in questo 2020 era uno dei giochi che aspettavo assolutamente di più, perché sono fanatico della Seconda Guerra Mondiale, ma uno dei miei film preferiti, insieme a Dunkirk, è stato appunto Operazione Valkyria, che lo rivedrei una volta veramente a settimana, per me è troppo bello. Apriamo. Regolamento di gioco che... Aspetta, le voglio contare direttamente, 3, 4, 5, 6, 7, e non contando una modalità particolare per aumentare leggermente la difficoltà, e il calcolo dei punteggi della vittoria alla fine, veramente questo è un gioco da regolamento con 8 pagine. È veramente molto semplice, e tra l'altro è anche un piacere da leggere, perché è tradotto veramente bene, e poi al solito è pieno zeppo di esempi. Un sunto, un sommario delle regole, una specie di tutorial, token dei personaggi più importanti del Reich, ovviamente in cima Hitler, e tutti quanti i suoi logotenenti, ad esempio vediamo c'è Goebbels, Himmler, Goering, e tutti gli altri, che praticamente sono la parte più rischiosa quando si aggireranno sulla mappa di gioco, che poi vi faranno vedere, perché incrociare loro vi darà sempre il malus, che c'è scritto sotto. Poi tutte quante le armi, o comunque gli equipaggiamenti che si possono trovare sulla mappa, armi, perché uno degli obiettivi, una delle vie, delle possibilità per uccidere Hitler, sarà ad esempio cecchinarlo, ucciderlo con uno sniper, oppure la bomba, come mise von Stauffenberg nella tana del lupo, se vi ricordate anche nel film, mappa, documenti, firma, chiavi, e tutto il resto che vi potrebbe servire. E qua giù invece sono questi quanti i token per le varie difficoltà, difficoltà facile del gioco, normale e difficile. Tabellone di gioco che comprende la parte principale è Berlino, con la stazione ferroviaria di Berlino e tutte le zone di Berlino collegate, vedete, con la B, e poi prende anche le parti più importanti della Germania nell'epoca appunto della seconda guerra mondiale, nell'arco che va dal 36 al 44-45, e poi ci sono anche altre zone come tipo però molto molto marginali per farci qualche azione, tipo la Francia, Parigi in particolare, e la Polonia. Dadi, questo gioco usa dei dadi a sei facce, dove da una parte ci sono i numeri, poi ci sono due simbolini, che poi vi vado a descrivere cosa sono, col mirino, e uno con l'aquila nazista, che nella maggior parte dei casi è sempre un fallimento critico. Token di legno e Meeple, che servono per segnare ovviamente il Meeple colorato, siete voi che vi muovete sulla mappa, e gli altri servono per tenere conto di motivazione e sospetto che andrete a guadagnare. I due mazzi delle carte di gioco, comprensivi ovviamente di carte evento, carte azione, carte cospirazione, e quant'altro. Bustine, per conservare tutte quante le carte e i token, e le carte dei personaggi giocabili, in questo caso vedete il colonnello della Wehrmacht, Klaus von Stauffenberg. Vi faccio un po' un'infarinatura del gioco. Premetto subito, ma tanto lo vedrete sempre, e d'ora in avanti come appunto nota video, questi che vedete non sono tutorial, sono video di presentazione e cosa ne penso. Quindi ovvio vi do un'infarinatura delle regole, ma non li prendete assolutamente come video tutorial. Comunque, per andare a descrivere la scheda di von Stauffenberg, noi gli affidiamo intanto il Meeple verde. Facciamo conto che questa è una partita a tre giocatori. Insieme al Meeple vanno presi anche gli altri due cubettini verdi, che sono uno per il livello di motivazione, che ovviamente all'inizio parte da cauto, e uno è per il livello di sospetto, che parte da basso. Vedete che ciascun personaggio ovviamente ha un'affiliazione, Faust-Stauffenberg è il colonnello della Wehrmacht, ad esempio, Olbricht è generale invece della Wehrmacht, e poi quest'altro è in cima della Wehrmacht. Ora, ciascun personaggio, vedete, può portare 8 oggetti, quindi quelli colorati, ci sono personaggi, oppure mi sembra ci sia un personaggio che ne può portare fino a 4, e ognuno di loro ha un livello di motivazione e un livello di sospetto. Le regole del gioco vogliono che, per motivare il vostro dissidente, voi dobbiate arrivare a Temerario, perché arrivando a Temerario, a parte che prendete il bonus che c'è scritto accanto, arrivare laggiù in cima vi farà utilizzare delle carte che altrimenti non potreste utilizzare, o ad esempio, quando sarete pronti per fare il colpo a Hitler, quindi nel caso gassarlo, perché c'è anche la possibilità a fargli esplodere una bomba, oppure cecchinarlo, magari quell'azione lì vi chiederà un livello di motivazione particolarmente alto. L'avete visto anche un po' nel film Operazione Valkyria, che prima di tutto vi dovete motivare, perché partite giustamente cauti, poi scettici, e poi arrivate fino a Temerario, però vi ci vorrà un po' di coraggio, e un po' soprattutto dei movimenti logistici perfetti, anche perché, insomma, state per iscrivere la storia, quindi comunque richiedeva sicuramente molta motivazione. E poi il sospetto, ovviamente non vi sto a descrivere tutte le regole, però più si alzerà il sospetto, più rischierete di essere beccati e soprattutto arrestati dalla Gestapo, dalla polizia del Reich, che vi andrà a interrogare. Questa è la mappa di gioco, non abbiamo fatto un setup a 3, 4, 5 giocatori, comunque tanto il manuale è chiarissimo. Comunque, tutti i personaggi partiranno dalla stazione ferroviaria di Berlino, che vedete sono tutte zone collegate con la B, e voi ci andate a mettere tutti quanti i meeple sopra. Questa è la zona prigione, che vi farò vedere successivamente. Questi sono Hitler e i suoi luogotenenti in giro per la mappa, sempre nel setup iniziale. Questi sono oggetti delle varie zone che potete andare a raccogliere. Gli oggetti che vi ho fatto vedere sono lo slot nella carta del personaggio. I livelli di difficoltà del gioco, che sono normale, impostato a 3, per il supporto militare di Hitler, e poi c'è la modalità facile per settarla a 2, oppure la difficoltà difficile per settarlo a 4, tanto comunque i colori sono riportati anche qua giù. Una lista di tutte le azioni che potete fare, una leggenda dei simboli che trovate sulle carte, di solito un'azione, una freccia del genere, vuol dire che potete fare, per usarlo dovete fare un'azione, perché ciascun giocatore, ciascun personaggio ha 3 azioni in questo gioco. Se no, là dove vedete che c'è il fulmine, vuol dire che lo potete risolvere in qualsiasi momento, e non richiede la spesa di un'azione. Comunque avete tutta quanta la leggenda, per quello non vi potete sbagliare. Ora, per spostarsi da una zona a un'altra, dove deve sempre essere collegata, e una delle azioni che potete fare, una delle tre azioni per il vostro turno, è quella di spostarvi. Ovviamente nelle zone con la B, siete dentro Berlino, se non vi dovete spostare in una zona adiacente. Se mi sposto da qui a qua giù, ho sprecato comunque un'azione. Se da qui torno nella stazione ferroviaria, ho sprecato un'azione. Però nel caso volessi andare ad esempio a Monaco, dovrei fare due azioni, passando da qui e andando qua. Quindi sarebbero due movimenti per arrivare fino nella zona. Vedete, in alcune zone ci sono appunto Hitler, i suoi logotenenti, che poi a seconda di carta evento si sposteranno per la mappa, e vi danno dei malus. Vi danno dei malus, come nel caso di Hitler, che quando iniziate, e solo quando iniziate il turno nella casella con Hitler, vi dà meno una alla motivazione. Motivazione che dovete andare a aggiornare sulla tessera, quindi se eravate devoto, passate a determinato. Se eravate scettico, ripasserete a cauto, perché ovviamente avendoci Hitler nelle vicinanze, insomma, un po' la strizia ti prende. Però, se vi spostate nella casella dove c'è Hitler, uno dei logotenenti, non prendete mai il malus. Il malus lo prendete soltanto quando inizia il turno in una zona dove loro ci sono. E questa è una cosa che si può fare, quindi muoversi. Un'altra è raccogliere un oggetto, ovvero io vado nella zona. Facciamo conto che mi sposto da qui a qui e spreco la prima azione. Con la seconda azione lo rivelo, ma non lo prendo, eh, lo rivelo soltanto. Quindi ho sprecato la seconda azione. Con la terza azione, nel caso, lo posso prendere. E in questo caso sono delle credenziali che potrebbero servirvi per fare, appunto, il colpo contro Hitler a seconda della carta che vi potrebbe venire fuori. Io questo oggetto, con la terza azione, lo posso prendere, quindi me lo metto sulla scheda, oppure posso non prenderlo e scartarlo, e scartandolo riprenderò punti, cioè abbasserò il mio livello di sospetto, perché, ovviamente, voi dovete far finta di essere dei nazisti del Reich, se no, prima o poi, come in Operazione Valkyrie, se no, prima o poi vi beccheranno. Quindi dovete anche far finta di essere dalla parte del Reich, dalla parte del leader supremo, quindi di Hitler. Quindi, alla fin fine, trovare un oggetto che vi potrebbe servire da morire o anche i vostri compagni, perché è un gioco cooperativo, eh, e scartarlo. Avete dato una mano al Reich, vi siete per un attimino rifatti amici, o comunque avete fatto abbassare il sospetto verso di voi. Decidendo di scartare un oggetto, l'azione che vi ho detto, potete prendere il bonus che c'è scritto sotto. Quindi, in questo caso, vedete, se scarto questo oggetto, è la V2 di sospetto. Potete cospirare, che ve lo dico successivamente, l'ultima cosa che vi spiego, però questo, tutte le azioni le potete fare quante volte volete, eh, nel turno. Solo cospirare lo potete fare una volta soltanto, ma comunque c'è scritto. Potete consegnare un oggetto, l'azione che vi ho detto. Un'altra azione, potete aggiornare il vostro dossier, ovvero andare a pescare una carta per ciascuna azione, la potete fare quante volte volete, da questo mazzo qui, non da quello nero, che è un'altra cosa. E praticamente, col mazzo dossier, andate a girare, vedete cosa è uscito, e il limite di carte che potete avere nel dossier è sempre dato dalla motivazione. Dalla motivazione e anche dal sospetto. Quindi andate a leggere, sempre cosa c'è scritto accanto, a seconda del livello di motivazione in cui il vostro personaggio si trova in quel momento, per vedere quante carte potete tenere nel dossier. Ovviamente, più è motivato, più carte potrà tenere, meno sarà motivato, meno carte potrà tenere. Per farvi vedere vari tipi di carte, questa è una carta comune, ok, che la potete mettere nel vostro dossier. Come vedete, c'è il fulmine, che vuol dire che la potete utilizzare quando volete, quindi anche nel turno, magari di un altro giocatore, tanto comunque un gioco operativo, e non spendete azioni. Questa invece è una carta che dovete sprecare un'azione con la freccia per usarla, la potete usare solo nel vostro turno. La carta imboscata, o comunque la carta complotto che vi ho fatto vedere prima, è una carta illegale, segreti militari. Quando la vedete di colorazione rossa con i due fulmini, vuol dire che la dovete usare nel vostro turno, dovete sempre usare un'azione, però ci sarà sempre una conseguenza, perché è una carta particolarmente forte, che vi manda avanti nel vostro piano di eliminare Hitler, però magari vi alzerà il sospetto, cose del genere, o comunque attirerà l'attenzione della Gestapo. Dovrete farvi tutto quanto il dossier, ovviamente andando a vedere anche lì le carte giuste, perché ci sono carte che vi fanno aumentare la motivazione, carte che non potete usare se avete abbastanza motivazione, soprattutto carte che vi potrebbero fare incrementare o scendere il sospetto. Quello che dovete evitare assolutamente è di essere arrestati dalla Gestapo, perché se la Gestapo vi dovesse arrestare il vostro personaggio finirà in questa zona qua giù, prigione, salterà al turno e l'unica cosa che potrà fare non pescherà nemmeno più la carta evento che vi faccio vedere, ma pescherà carta interrogatorio. Carta interrogatorio che di solito ti dà tre scelte e se ne potete risolvere una o tutte e tre scegliete voi quale opzione, A, B o C. La C la potete sempre risolvere, la A se la potete risolvere ma solo in parte dovete scendere alla B. Se la B la potete risolvere solo in parte allora vi rimane solo la C. Oppure un altro personaggio tipo che ne so qua dentro c'è un generale Faustaufenberg potrebbe arrivare con la sua autorità se ha abbastanza autorità però se non ha sospetto troppo alto perché sennò la Gestapo arresterà anche lui potrebbe andare a fare una prova di tirare un dado e se esce il simbolo dell'aquila arresteranno anche lui se invece uscirà un qualsiasi altro valore il vostro sospetto aumenterà di uno però l'avrete fatto liberare dal carcere. Quindi comunque fate qualsiasi cosa ma non finite in prigione arriverete a un certo punto dove dovrete tramite ovviamente le carte far crescere il dissenso guadagnando dei dadi che andrete a tirare dadi che voi dovrete posizionare se verranno dei risultati ovviamente vedete il mirino come un colpito questo è sempre un risultato di successo questo è un numero che potrebbe implicare un'altra cosa ad esempio in alcune carte vi potrebbe dire se fate un successo lo mettete qua su in cima quando avete tre successi potete prendere uno di questi due bonus elencati di solito fate scendere il supporto militare di Hitler o fate aumentare di uno il valore di motivazione di un cospiratore però nel caso vi uscisse l'aquila invece è un fallimento che dovete andare a vedere sulla vostra scheda a che livello siete di sospetto perché se siete a un livello medio e vi dovessero uscire due aquile automaticamente sarete arrestati dalla Gestapo se invece dovesse uscire un tiro del genere dovesse uscire un 2 un 2 e un mirino a seconda dei dadi che andrete a tirare che potrebbero essere più o meno di quelli che mostro uno lo metterete sempre qua su e gli altri due gli altri valori che non sono figure i numeri li andrete a sommare e sarà il numero di azioni che avrete in quel turno quindi anche se avete già fatto tre azioni ne avete altre quattro quando arrivate ad avere la carta complotto c'è tutta una meccanica particolare che poi comunque tanto è sempre elencata qua giù in fondo lo vedete questi sono i tre risultati che potete fare ovvero un fallimento il complotto viene smascherato oppure il complotto quindi vi arrestano andate in galera vi levano tutte le carte il complotto non è riuscito ma non è neanche stato smascherato quindi comunque l'avete fallito e basta o il complotto è riuscito e ovviamente avete sconfitto Hitler ci sono sempre dei requisiti necessari che dovete avere quindi questa è una cosa che dovete avere per forza non potete fare questo complotto i requisiti facoltativi potrebbero essere ad esempio avete le chiavi? si le chiavi ce l'ho come oggetto ok ti da un dado in più e tutte le altre cose che ci sono scritte vi serviranno nel caso anche tutti i cospiratori siano nella stessa casella potrete avere dei dadi aggiuntivi occhio potete anche limitare il numero di dadi che andrete a tirare perché è vero si che sei dadi ti fanno avere molte più possibilità di portare avanti l'imboscata e uccidere i tre però c'è anche più possibilità che ti escono le aquile e ricordatevi che se escono troppe aquile il complotto voi dovete fare per primo sempre il conteggio delle aquile se no verete arrestati c'è da tenere sempre sotto controllo cose importanti motivazione sospetto che sono sulle vostre carte di gioco quindi motivazione e sospetto la motivazione deve salire il sospetto deve scendere ovviamente e il supporto militare di Hitler si deve abbassare perché se voi andrete a fare delle prove questa sarà la difficoltà per i complotti quindi avere il supporto militare di Hitler a 6 e provare a fare una prova ma forse anche con 6 dadi attirarli tutti quanti per vedere di ucciderlo è difficile fare un risultato di 6 cioè praticamente vorrebbe dire che tutti i colpi devono andare a segno quindi prima dovrete abbassare il supporto militare e quando sarà abbastanza basso provare a fare il colpo per ucciderlo quando siete nel vostro turno dovete pescare da questo mazzo ve l'ho detto per il dossier quando invece siete in galera dovete pescare da questo mazzo come vi ho detto prima che è quello dell'interrogatorio quando il giocatore finisce il suo turno sia chiaro il giocatore non tutti quanti i giocatori quando un giocatore ciascun giocatore finisce il suo turno alla fine del suo turno deve pescare una carta da questo mazzo qua su che all'inizio del setup dovete sempre levarne due due da ogni mazzo per anche creare un pochino più di casualità che le partite non siano mai uguali quindi dovete levarne sempre due due da qui due da qui da qui rimettere nella scatola andate a pescare la carta per vedere cosa c'è sotto vedete c'è sempre scritto uno stadio quindi fino a che siete nello stadio 1 vi potete spostare solo in zone col numero 1 e ovviamente a Berlino quando passerete allo stadio 2 vi potrete muovere con le zone 2 o inferiori allo stadio 3 nelle zone 3 o inferiori ovviamente in una zona tipo Auschwitz che è di stadio 4 non vi ci potete muovere quando non siete almeno nello stadio 4 quindi proprio il vostro personaggio non ci può andare leggerete cosa c'è scritto nell'evento quindi dovete applicare subito l'evento che l'evento attuale va messo qui quindi l'evento attuale va sempre messo qua giù capitano a volte degli eventi chiave che sono eventi praticamente storici ve l'ho detto si parte dal 36 e si va fino al 45 a fine guerra quando arrivano gli eventi chiave li dovete mettere sempre qui accanto lo vedete c'è scritto evento chiave l'evento chiave non solo è un evento importantissimo che rimane in campo però nel caso quando andrete a pescare nuovi eventi se pescherete un evento di questo tipo sempre lo andrete questo rimane in gioco quindi quello che c'è scritto rimane in gioco quindi dovete sempre leggerlo e quando andrete a giocare un evento successivo quindi quando un altro giocatore dovrà nella sua fase di evento pescare una carta l'andrete sempre a mettere qui sopra l'unica se andate a pescare una carta con la cima gialla se è in campo anche l'evento chiave questa non va giocata la mettete qui è come se fosse scartata e ne pescate un'altra è gialla anche questa quindi nel caso ne andate a pescare un'altra fino a che non c'ha la cima gialla una cosa importante si può perdere la partita finendo tutti in galera fallendo l'attacco finale a Hitler quindi venendo completamente sgamati quindi occhio quando l'andate a fare e finendo le carte di un mucchio perché se voi nello stadio 1 la regola di gioco vi dice ok vai a pescare una carta e carte non ce ne sono più avete usato troppo tempo per acciuffare e ammazzare Hitler e quindi non potete più andare avanti e partite persa ci saranno delle regole che ovviamente vi faranno passare nelle varie epoche e vi faranno usare gli altri stadi nella mappa quindi è tutto un gioco strategico di muoversi velocemente poi vi potete dare anche manforte perché tanto le carte che andate a giocare sono pubbliche cioè giocate tutti quanti insieme se ad esempio Forstaufenberg ha tutto quanto pronto gli manca soltanto un fucile e quel fucile Forstaufenberg non ce l'ha ma magari ce l'ha un altro personaggio che nel momento si trova a Praga questo personaggio potrebbe nel suo turno usare un'azione andare qua giù passare all'oggetto a Forstaufenberg che poi magari nel suo turno perché l'evento potrebbe dire ok vuoi uccidere Hitler però ti devi trovare nella stessa casella dove è Hitler quindi lui magari si sposterà andrà qua giù girerà la carta complotto tirerà i dadi che deve tirare sempre guardando che il livello del supporto militare del Führer sia basso e se fa abbastanza risultati pari o superiori la partita è finita e avete ucciso Hitler ragazzi bene o male questa ve l'ho detto l'infarinatura serve anche per farvi cercare di capire se un gioco che puoi fare per voi oppure no in poche parole ragazzi per me veramente è uno spettacolo è uno spettacolo perché è uno di quei giochi che dovete stare attenti a qualsiasi cosa ma non dovete tenere 3000 cose in testa è un gioco leggero alla fin fine cioè non ti devi bruciare il cervello l'unica cosa è che è un gioco molto cooperativo perché qui veramente rischiate e se fallisce uno fallite tutti e se uno di voi va in galera e quello lì in galera c'aveva i piani giusti la bomba che ci servivano per fare il piano e va in galera e quando va in galera ovviamente gli oggetti li perdi oppure prova a fare un attentato lo fallisce l'arrestano gli prendano tutti gli oggetti è finita cioè ti ritrovi veramente come in operazione Valkyria quando va a mettere la bomba nella tana del lupo e quell'altro stronzo di nazista gliela sposta per metterla un po' più là e soltanto spostarla di due o tre metri non è bastata a uccidere Hitler cioè bastano veramente oppure che uno di voi viene arrestato e va a spifferare tutto perché è un'altra regola che non vi ho detto quando venite arrestati e vedete questa carta qui interrogatorio quello che è arrestato per quanto è un gioco pubblico in cooperativa quello arrestato non vi deve né far vedere la carta se la deve leggere lui tenela nascosta ok e poi deve leggere le tre scelte senza dirvele e solo quando la scelta decide che sarà giocare quella vi deve dire quella che ha scelto e la prova che deve fare ma senza la carta non ve la deve mai mostrare vi deve mostrare solo quella che ha scelto perché potrebbe per essersi salvato il culo aver manomesso tutto quanto il piano tipo l'operazione Valkyria quindi magari dice ragazzi sono riuscito ora vi do una mano a non ne può nemmeno parlare vi do una mano a prendere il Führer però magari sono uscito facendovi alzare a tutti il sospetto e altri giocatori non lo sanno capito e quindi è una cosa che bisogna starci veramente attenti bisogna cercare di non finire in galera è un gioco molto tattico e poi bellina a fine manuale c'è questa carta qui soprattutto abbiamo riscritto la storia che vi invita a farvi una foto di gruppo tutti belli felici e a postarla sul sito mettendoci anche l'hashtag we killed Hitler sotto quindi la cosa che si farà è mia moglie ci vestiremo da partigiani francesi oppure col baffo alla Stalin col moustacchio io da pilota della raffa sono per me i migliori comunque a parte queste cose qui è un gioco veramente interessante è un gioco fatto bene un pochino come meccaniche un pochino per il fatto della mappa lì spostamente giocare in segreto mi ha ricordato anche un po' Narcos però qui ovviamente siete voi alla rovescia non c'è un Pablo Escobar che si nasconde e la DEA che lo deve andare ad arrestare qui il Führer e tutti i logotenenti sono pubblici siete voi che vi dovete nascondere e quindi è una figata disumana se le devo dare un voto a un gioco del genere per quello che cerca di fare e per come riesce a farlo le do assolutamente un 10 su 10 meritatissimo ragazzi se siete fan della seconda guerra mondiale vi farebbe un piacere disumano ammazzare tutti questi nazisti schifosi e il loro capo infimo è un gioco che non vi deve mancare assolutamente e ovviamente vi lascio il primo link in descrizione dove acquistarlo ma i giochi dell'Asmo d'Italia li trovate in tutti i migliori negozi io ringrazio ancora una volta Asmo d'Italia per avermi offerto una copia per le recensioni poi trovate il primo link in descrizione dove acquistarlo tutti quanti i nostri social a seguire ragazzi sia chiaro non solo video tutorial ve l'ho detto vi do un'infarinatura insomma per farvi vedere un po' come funziona il gioco e più che altro per farvi un'idea se mi può interessare o non mi può interessare comunque non lo prendete come un tutorial è un gioco che vale veramente oro ragazzi questo è un altro gioiellino che ci finisce in casa e tra le mani penso che una partita tiri l'altra veramente un po' soprattutto se fallisci ci rimane talmente male ed essere arrivato a un soffio ed ammazzare quel cavolo di Hitler che fai no ci devo riprovare è veramente interessante ciao ragazzi alla prossima